Buongiorno Fiatinonline, partenza negativa questa mattina per la borsa, il Fuzzimib in questo momento lascia sul terreno 0,8%, siamo intorno ai 19.125 punti, in avvio le quotazioni hanno scese molto di più, si erano avvicinate pericolosamente ai minimi di settimana scorsa, in ogni caso fino a che il supporto era 18,9% tiene, si può sperare, in un proseguimento del rimbalzo verso area 19,4% che è il lato alto del canale ribassista che parte dal massimo del 12 d'ottobre, invece se i prezzi devono tornare sotto 18,9% diverebbe probabile il test della base del canale che in questo momento passa intorno a 18,750, la linea mediana del nostro canale ribassista è quella sulla quale si trovano attualmente le quotazioni ed è un po' il baricentro per quello che riguarda l'attività dei prezzi in questo momento, quindi ovviamente se riusciremo a allontanarci verso l'alto dalla mediana sarà un'indicazione positiva, invece se i prezzi devono tornare di sotto della linea mediana che passa a 19.110 circa, in quel caso avremo un ritorno di debolezza. Ci sono comunque alcuni titoli che riescono a mantenersi positivi nonostante l'intonazione ribassista generale del mercato, tra questi abbiamo Fiat Chrysler che già nella seduta di venerdì aveva provato ad inviare un segnale rialzista, vedete venerdì aveva fatto un massimo a 11,18, la resistenza è il massimo del 15 settembre a 11,23, questa mattina siamo a 11,29 quindi i prezzi sarebbero al di sopra del massimo di settembre e avrebbero quindi inviato un segnale di forza. E' ovvio che sarà necessario attendere la conferma in chiusura di seduta della rottura di quella resistenza perché come vedete coincide con il 61,8% di ritracciamento del ribasso dal massimo di novembre dello scorso anno. Siamo pertanto su una quota critica anche in un'ottica di medio e lungo termine fino a che il 61,8% di ritracciamento non sarà alle spalle, c'è il rischio di dover considerare il rialzo che abbiamo visto dal minimo di marzo che si è mosso all'interno di questo canale crescente come una semplice correzione, se invece i prezzi dovessero salire oltre 11,23 confermando la rottura in chiusura di seduta in quel caso avremmo un segnale che potrebbe portare inizialmente al test dell'auto al canale quindi a 12,70 ma in un'ottica temporale più estesa ci sarebbe la possibilità di salire anche oltre quei livelli resistenza intermedia il gap del 24 febbraio a 12,01-12,02, pertanto dopo area 11,25 prima resistenza a 12, seconda a 12,70, se dovessimo invece vedere che area 11,25 non viene superata, quindi se i prezzi dovessero rimanere alla fine della chiusura della seduta di oggi al di sotto di questa linea ci sarebbe ovviamente il rischio di assistere poi a una fase calante, infatti queste oscillazioni potrebbero assumere i tratti di un doppio massimo. Passiamo adesso a Diasorin che aveva avviato una fase di flessione settimana scorsa, vedete c'è stato questo massimo toccato il 19 di ottobre a 197,50, venerdì avevamo visto un'accelerazione al ribasso che aveva portato le quotazioni al di sotto della base di questa fascia laterale che si era sviluppata nella parte centrale della settimana, vediamo se la media mobile a 20 giorni esponenziale aveva tenuto, sì siamo rimasti al di sopra dell'esponenziale a 20 giorni, quindi per adesso diciamo che la flessione vista dal massimo della settimana scorsa può essere vista ancora come un elemento correttivo, sarebbe meglio vedere che le quotazioni ritorneranno al di sopra del lato alto di questo canale ribassista che in quel caso se venisse superato il suo lato alto diventerebbe appunto un flag, ossia una figura di continuazione della precedente tendenza rialzista, avremmo quindi avuto in quel caso un rialzo, la comparsa del flag che è una pausa e poi ci sarebbe la possibilità di riprendere a salire verso i record che il titolo aveva toccato a maggio a 211,80, se invece le quotazioni dovessero scendere al di sotto di area 185 in quel caso ci sarebbe il rischio di assistere al proseguimento della nostra fase correttiva con obiettivi che direi si possano individuare intorno ai 173,5-174 Euro, pertanto è importante che area 193,50 venga superata per poter riprendere a salire verso i massimi di maggio. Inuit è in una fase simile a quella che abbiamo appena visto per di asolio, cioè c'è stato un rialzo e poi questo canale che ha interrotto la fase crescente, il canale anche in questo caso potrebbe rivelarsi un flag, ovvero una figura di continuazione del rialzo che abbiamo visto dai minimi di inizio settembre, la rottura del lato alto del canale ci fornirebbe una conferma in questo senso, sarebbe in caso di superamento di area 9,45 quindi possibile scommettere sul proseguimento della fase di rimbalzo, i prezzi potrebbero in quel caso puntare prima a 9,80 poi a 10,15 che sono il 50%, il 61,8% di ritracciamento del ribasso dal massimo del 20 di aprile. Senza la rottura di questa linea verde, quindi del lato alto del flag, senza superamento di 9,45, resta invece il rischio di assistere a una fase ribassista che vada a ricoprire il gap del 9 di settembre con base a 8,42, 8,43. Infine guardiamo Saras che settimana scorsa si è risvegliato dopo una lunga fase di debolezza e si sta disegnando una potenziale figura rialzista, vedete i minimi del 30 di settembre, i minimi del 14 di ottobre sono allineati su livelli simili, quindi si può parlare di un potenziale doppio minimo in costruzione, è evidente che per completare la figura servirà il superamento del massimo del 7 di ottobre a 0,52,50, quindi sopra 0,52,50 il titolo invierebbe un segnale incoraggiante, target in quel caso dato dalla proiezione dell'ampiezza della figura dal punto di rottura posizionato perciò intorno a 0,63, se invece i prezzi non dovessero riuscire a superare il massimo del 7 di ottobre in quel caso c'è il rischio di un ritorno verso la parte bassa della nostra fascia, quindi fino a 0,42, prudentemente pertanto aspettare una chiusura di seduta al di sopra di 0,52,50 prima di andare a comprare il titolo. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.